Ciao a tutti, sono Teninati, benvenuti su questo video. In questo video vi dico 5 cose che dovete sapere prima di entrare in un mondo di body beauty, sia amateur o sia come pro. Quindi, come sapete voi, non ho mai gareggiato anche se ho questo, solo perché mangio couscous e polo, sto scherzando. Comunque, lo so che non ho mai gareggiato, però ho tanti amici che fanno body beauty come professione e ci sono tanti che sono diventati pro, miei amici, anche ci sono altri che stanno per diventare pro. Quindi ho chiesto loro un po' di domande che mi fate voi sempre per diventare un body beauty, cosa uno deve fare, cosa uno deve sapere. Quindi, in questo video vi dico 5 cose che tu devi sapere prima di iniziare a pensare body beauty o prima di iniziare la tua carriera di body beauty. La prima cosa è che body beauty costa. In senso, per diventare un body beauty devi spendere un po', un sacco di soldi su alimentazione, su salute e su tante altre cose. Quando parlo di alimentazione, per la dieta devi fare tanti shopping per fare la dieta giusta, per crescere i tuoi muscoli. Anche queste cose non costano poco. Piuttosto puoi anche andare in mercato a comprare, però lo so non costano poco, perché devi mangiare un sacco di calorie, scusate, a giorni anche devi mangiare un sacco di proteine. Quindi non è una cosa facile. Anche devi comprare magari proteine, creatine, amminoacidi, eccetera. Quindi prima di iniziare devi sapere che devi spendere tanto, anche per quelli che sono i pro, ci sono altre cose che ti devi comprare o che non voglio dire, perché lo sappiamo, per aiutarti a vipare per una gara o per arrivare a un certo livello. La seconda cosa che devi sapere è che tu devi fare tanti sacrifici. In senso, sacrificio in senso, devi dividere il tuo tempo o tu devi creare una vita, una stella di vita attorno ai tuoi allenamenti, per i body beauty. Quindi magari se i tuoi amici stanno andando a mangiare la pizza, non puoi, perché tu devi seguire la tua dieta, magari il weekend, non puoi anche andare a ballare, perché la mattina dopo ti devi svegliare e andare allenati. Quindi questi sono molti sacrifici che uno deve fare per diventare. Devi essere molto, molto, molto con la testa per diventare un body beauty, per avere anche successo. Perché tu puoi avere un genetico buonissimo, però se ti non segui, regola, se non fai tanti sacrifici, non riesci mai a arrivare a quel livello lì. Ok, la terza cosa è la guadagna su body beauty. Body beauty è difficile guadagnare. Tanti entrano in questo spot pensando che possono guadagnare un voto. Raga, sono qua per dirvi che non è così. Pensa che il migliore body beauty al mondo sarà Mr. Olympia, che guadagna più o meno 250.000, fino ai 350.000 per vincere Mr. Olympia. Però per arrivare lì, tutta la preparazione che fa per arrivare in quello Mr. Olympia, per vincere Mr. Olympia, magari hai usato metà di quello soldi lì o magari anche di più di quello soldi lì per arrivare a quello punto lì. Quindi se sono queste gara di Amaccio che magari vinci una gara di Amaccio per diventare pro ti danno 1.000 euro o magari ti danno 5.000 euro o anche una gara come Amaccio ti danno magari a volte a meno acidi e proteine. Non è che guadagna su questo spot. Sì, se tu sei ben seguito su social, puoi guadagnare su sponsor. Però su body beauty in sé non guadagna tanto. Quindi prima di iniziare devi sapere questa cosa su body beauty. La quarta cosa è, su body beauty come pro, questo qua per i pro, ci sono tanta tanta droga in mezzo, in senso ci sono pd, stiroidi che uno deve prendere. Anche queste cose, uno sono illegali, quindi se ti beccano con alcun prodotto puoi rischiare anche di andare in galera. Perché è illegale e anche questo prodotto, essendo che sono illegali, costa anche di più. Costa molto di più, quindi praticamente per diventare un body beauty tu devi essere più o meno ricco. O tu devi lavorare, un altro lavoro per diventare un body beauty perché non guadagna già su body beauty e tu devi spendere tutti questi soldi per, diciamo, la droga, stiroidi, pd e tante altre cose che prendono per arrivare a quel livello lì. Quindi questo è una cosa che uno deve sapere prima di diventare un body beauty. L'ultima cosa è la salute. Prima di diventare un body beauty, prima di diventare un body beauty pro, non natural come me, però tu sei natural come me, va bene, ogni tanto ti puoi anche andare a essere controllato, però così tu sei pro, devi essere controllato. Quando tu inizi a prendere certi prodotti, tu stai mettendo la tua vita a rischio. È molto a rischio la tua vita perché puoi rischiare di avere un infarto, puoi rischiare di avere problemi di fegato, o puoi rischiare di avere problemi di pulmone, perché su tutti questi prodotti che prendono sono molto rischiosi per la loro salute. infatti, tanti body beauty hanno perso la loro vita in questi ultimi anni, come sappiamo. Quindi devi pensare che tu vai a rischiare anche la tua vita, la tua salute per questo sport. Quindi devi sapere cosa tu stai entrando. Quindi ragazzi, queste sono cinque cose che ti devi sapere prima di diventare un body beauty. Quindi ragazzi, se questo video è stato interessato, a voi mette un bel mi piace, commentate se avete altre cose che volete che le persone sanno su body beauty. Grazie mille, ci vediamo nel prossimo video. Let's go!